Registriamo e vai! Scappa, scappa, salvo 5.0 Scappa, scappa, salvo 5.0 Scappa, scappa la diretta con solo mandara Carissime amiche e carissimi amici Sorelle e fratelli della grande, piccola, grande comunità, famiglia di salvo 5.0 Bentornati, 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 benvenute e benvenuti Siete collegati ancora in diretta con salvo 5.0.tv Chi vi parla è salvo mandarà Oggi è martedì 6 ottobre del 2015 Sono le 11.48 E appunto questo qui è il mi scappa la diretta di oggi Martedì 6 ottobre Bene, ho pensato di fare il mi scappa la diretta subito In cascata Ecco, mentre ero ancora caldo Mentre il canale era ancora in attività Per l'intervista appena conclusa Con Marcello Di Finizio Ho detto bene, facciamo anche il mi scappa la diretta Così, diciamo, sfruttiamo l'effetto traino di una precedente diretta Poi mi posso occupare di alcune attività che devo ancora fare Del pranzo e poi nel pomeriggio altre attività legate a salvo 5.0 Bene, intanto vedo che su Periscope siete rimasti in tre Siete pochini ragazzi Mettete un po' di cuoricini Spargete la voce O immagino che tutti voi vi siate trasferiti su salvo 5.0.tv Quindi io quasi quasi chiuderei Periscope Dai, facciamo così Chiudiamo Periscope Sì Allora Ciao cari amici Se volete continuate a vedermi su salvo 5.0 Ecco qua Bene Abbiamo chiuso Periscope Allora, stavo dicendo carissimi amici Carissime amiche, sorelle e fratelli Di salvo 5.0 Che, scusate, chiudo qui la finestra di Periscope Mettiamo in stand by questo tablet Benissimo Benissimo Allora, carissime amiche e carissimi amici Oggi c'è ancora un'altra attività molto importante Non so quanti di voi hanno l'abitudine di andare nella pagina dei prossimi appuntamenti di salvo 5.0 Ecco, spero che siano in molti a farlo perché credo che sia una pagina molto utile Visto che in tanti mi dicono Ah, ma come facciamo a sapere quando ci sono le dirette Bene, c'è una pagina che si chiama Prossimi appuntamenti Che viene proprio Alimentata, gestita Quotidianamente Con fatica, devo dire Non una grande fatica fisica Però, insomma, tenerla costantemente aggiornata è un impegno Ecco, è un impegno Allora, ecco, vorrei capire se è utile Allora, facciamo una bella cosa Io adesso lancerò un sondaggio Lo metto anche poi su Facebook Vorrei capire quante persone utilizzano la pagina Prossimi appuntamenti Perché se scopro che il vantaggio dell'uso di questa pagina È trascurabile rispetto alle energie che devo impiegare per tenere la giornata Bene, non la aggiorniamo, insomma, se non serve a nessuno Perché continuo ancora a vedere gente che mi dice Ma come faccio a sapere quando c'è una diretta E caspita, io impiego energie per fare questa pagina e poi nessuno la guarda Allora, quindi vorrei capire se serve a qualcosa Oppure avere qualche suggerimento Perché evidentemente non è abbastanza visibile Non so come potrei fare per fare in modo che più persone la guardino Comunque, basta lamentarsi del fatto che pochi guardano questa pagina Ci tengo a dirvi che appunto Dopo l'intervista che avete appena visto con Marcello Di Finizio Nel pomeriggio c'è un'altra intervista In un orario un po' strano Alle 14.30 Ecco, alle 14.30, cari amici Ci sarà un'intervista con due campioni del mondo di culturismo Ecco, una delle domande che farò loro è proprio quella per cercare di capire Le varie sfaccettature, le differenze Le differenze tra le varie discipline nell'ambito del culturismo Perché io sono molto molto ignorante in materia Ecco, nel frattempo, cari amici, ho preparato la locandina Eccola qui Questa qui è l'anteprima dell'intervista del pomeriggio Pier Venturato e Mara Besacchi Ecco, se vi interessate di culturismo e di sport legati alla cultura appunto del corpo Sicuramente conoscerete Mara Besacchi e Pier Venturato Se invece non li conoscete, perché evidentemente non vi interessate di questa disciplina Vi suggerisco di andare in internet Mettete su un qualunque motore di ricerca questi nomi E scoprirete chi sono Pier Venturato e Mara Besacchi Diciamo che se la cultura fisica, se questo tipo di sport fosse noto come il calcio Loro sarebbero noti come Paolo Rossi e Roberto Bettega Ecco, qualcosa del genere Scusate se io cito dei nomi di calciatori molto antichi Ma questi sono quelli che mi ricordo di quando mi interessavo di calcio Io non sono ormai da una ventina d'anni interessato al calcio E quindi non conosco i nomi dei calciatori che vanno di moda oggi Ecco perché ho citato Roberto Bettega E chi è l'altro che ho detto? Bu, mi sono pure... Paolo Rossi Ecco, che non è l'attore simpaticissimo Ma c'è un calciatore che ormai ovviamente è in pensione Ma che si chiama Paolo Rossi Va bene, quindi cari amici Pier Venturato e Mara Besacchi Fra poco, diciamo, fra poco più di due ore e mezzo Alle 14.30 Con loro parleremo appunto di questa disciplina Di quali sono i loro successi a livello nazionale e internazionale E cercheremo di capire anche come si possono, diciamo, conciliare diverse esigenze Cioè quella di fare uno sport, diciamo, importante Dove il fisico è importante Dove quindi le energie sono importanti Con una dieta alimentare, diciamo, particolare Perché Pier Venturato e Mara Besacchi Sono adesso allenatori E allenano diversi atleti Che si alimentano in modo vegetariano E alcuni addirittura in modo vegano Ecco, quindi questo è un, secondo me, un aspetto Almeno io lo trovo interessante Spero che interessi anche voi Quindi vi ribadisco ancora una volta Alle 14.30 Intervista con Pier Venturato e Mara Besacchi Bene, di che cosa parliamo adesso In questo scorcio di Mi Scappa la Diretta? Beh, intanto vorrei chiarire un po' meglio L'idea che ho lanciato ieri E cioè quella di una moneta complementare Di Salvo 5.0 Allora, attenzione Non ho intenzione di creare una nuova ennesima moneta No, forse vi ho tratto un po' in inganno Con la scelta della locandina Del Mi Scappa la Diretta di ieri Dove ho messo una banconota di 500 euro Dove ovviamente ho fatto sparire Tutte le cose che non vanno Della banconota da 500 euro Quindi ho fatto sparire il nome della BCE E ho messo autoemessa Ho fatto sparire il simbolo della comunità europea E ho messo la fotografia del pianeta Terra Ho fatto sparire la scritta euro E ho messo crediti o buoni Ecco, quindi Ma è ovviamente un facsimile Un'idea Nessuna nuova moneta Semplicemente vorrei Proporre a tutti voi Amici, parenti, familiari Di questa piccola grande comunità di Salvo 5.0 Di aderire magari a una piattaforma O a una metapiattaforma Che magari cerchi di creare una sinergia Fra due, tre o più tentativi Di monete già esistenti Ok? Ovviamente Questa metapiattaforma Deve avere la caratteristica Della autoemissione Questo è importante Perché secondo me È veramente il modo migliore Il modo più corretto Di gestire gli scambi O i baratti Ecco il baratto Fra gli appartenenti A questa comunità E poi vabbè Ci sono tutta una serie di altre cose Di altri dettagli Che io devo ancora approfondire Perché ovviamente Sebbene sia molto interessato A questo argomento Non posso certo dire Di essere esperto Quindi devo ancora approfondire Tutta una serie di dettagli Farò delle riunioni Via internet Con i miei amici Paolo Maleddu Con Daniele Pace Con Davide Storelli E con altre persone Per cercare proprio Di trovare un modo Di creare una sinergia Fra varie realtà Che già esistono O che comunque Presto Esisteranno Ecco Sul panorama Italiano E poi Quando Avremo ben chiare in mente Tutte le varie regole Come gestire questa cosa Bene Lanceremo l'idea Io credo Che tutti noi Potremo veramente Fare miracoli Perché ho questa convinzione Non perché io Diciamo non solo Perché io sono particolarmente Megalomane Sognatore E pazzo Ma perché ho fatto Questa considerazione Se la comunità Di Salvo 5.0 Può contare Su qualche migliaio Di persone Che Secondo le mie stime Dovrebbero oscillare Tra le 5 E le 10.000 Queste persone 5 e 10.000 Sono quelle Che secondo me Accedono a Salvo 5.0 Con una certa regolarità Poi che questa regolarità Quotidiana Quotidiana Settimanale O mensile È ovvio che questo Può cambiare Però insomma Io ritengo che sia questo Più o meno il numero Di utenti E quindi di partecipanti A questa A questa Grande famiglia Di Salvo 5.0 Bene Voi immaginate Se queste Ipotizziamo 5.000 persone Si mettessero A condividere Questo progetto E quindi A scambiarsi Delle cose Scambi Baratti Li fa privati Ok A livello di tutta l'Italia Perché voi sapete Salvo 5.0 Ha un pubblico Che è distribuito In modo più o meno Uniforme In tutto il paese Io lo vedo Dalle donazioni Mi arrivano donazioni Da Caltanissetta E da Trento Da Aosta E da Siracusa Da Bari E da Nuoro Insomma Mi arrivano donazioni Da tutta l'Italia Ma anche dall'estero Mi arrivano anche Dall'Australia Dal Regno Unito Dalla Germania Dalla Francia Eccetera Eccetera Bene Quindi insomma Se la comunità È veramente così Distribuita Sul territorio Bene Si può pensare Che ci siano anche Legate a tutte queste persone A questi esseri umani Tante attività Quindi tante persone Che hanno qualcosa Da offrire In termini di beni O di servizi E ovviamente Tanti che possono essere Interessati Ad acquistare O a ricevere Questi beni E questi servizi Bene A questo punto Questa cosa potrebbe Veramente funzionare Ma poi c'è un altro punto Che mi fa pensare Che la comunità Di Salvo 5.0 Possa avere un plus Rispetto a una comunità Standard sul territorio Perché sai Potresti osservare Salvo ma esiste lo Scheck Non è che sta facendo faville Esiste il Sardex Esistono tante realtà Sì è vero Però queste realtà Che sono diciamo Locali Hanno Diciamo scusate Non hanno Una peculiarità Che è quella che ha La comunità Di Salvo 5.0 Qual è questa peculiarità Bene Questa peculiarità È il fatto Che la comunità Di Salvo 5.0 Ha un tasso Di conoscenza Di questi temi Di sensibilità E di comprensione Dell'importanza Di un progetto Del genere Che secondo me Si avvicina Al 100% Cioè Se diciamo Che sono 5000 Coloro che Abitualmente Vengono a visitare Salvo 5.0 Secondo me 4900 Sono ben coscienti Dell'importanza Di un progetto Del genere E della rilevanza Che può avere E di quanto Questo Possa aiutare Tutta la comunità A stare meglio A migliorare Il proprio standard Di vita Questo non si può dire Di una comunità Presa a caso In un territorio Lo Scheck Per esempio Lo sapete Sonda le sue radici In Emilia Romagna Ecco Se voi prendete Un popolo Certo Il popolo Emiliano Romagnolo È molto più numeroso Del popolo Di Salvo 5.0 Però è un popolo Diciamo Normale Cioè Dove trovate Di tutto Come il popolo Che segue la televisione Un popolo Diciamo Generalista Bene Prendendo Che ne so Due milioni Di persone In Emilia Romagna Non so bene Quanti sono Comunque Uno Due Tre milioni Quattro milioni Quelli che saranno Bene Quanti di questi Sono pienamente Consatevoli Di quanto Un'iniziativa Del genere Può dare Dei grandi risultati L'1% Lo 0,5% Ecco Questi Secondo me Sono i numeri Quindi capite bene Che possono fare Molto di più 5.000 persone Ben motivate Ben informate Con un indice Di pecoionità Molto ridotto Di quanto Possono fare Magari Due milioni Di persone Che sono prese Così a caso In un territorio Ecco perché Penso Ho la presunzione Di dire Che noi Che apparteniamo A questa piccola Grande comunità Possiamo veramente Farla funzionare Anche perché Ognuno di noi Si può trasformare In un Promotore Cioè in uno Che fa il giro Di tutte le piccole Attività Ma anche grandi Attività commerciali A dire Oh ma lo sai Che c'è una nuova Possibilità Per sviluppare Il tuo business Per farti conoscere Per vendere I tuoi prodotti Per mettere a disposizione Del pubblico Quello che tu hai Da offrire Anche perché Ovviamente ci sarà Una piattaforma Che elencherà Tutte le realtà Perché ognuno Naturalmente Può andare Sul sito A vedere Quali sono Tutte le realtà Convenzionate Dove è possibile Spendere Questi crediti Quindi capite Che si creerà Un circolo virtuoso E quindi Se tutti noi Ci facciamo promotori Immaginate Se ognuno di noi Porta Dieci persone Bene Capite che Diventiamo Cinquantamila Nel giro magari Di sei mesi Ecco Questo porta anche Nuovi ascoltatori A salvo 5.0 E insomma Si crea veramente Un circolo virtuoso Ecco perché Sono molto felice Che mi sia venuta Quest'idea Due giorni fa E ragazzi Non mi fermo Vado avanti Ovviamente Ci richiederà Dei tempi Per portarla avanti E spero che tutti voi Mi aiutiate Con le vostre critiche Positive O negative Ma in ogni caso Costruttive Per cercare Veramente Di arrivare A una soluzione Che ci liberi Piano piano Dalla schiavitù Ecco Di chi Di chi ci Di chi ci governa Schiavizzandoci Ecco Quindi Credo che sia Un obiettivo Veramente importante Dobbiamo essere Veramente Resilienti Io ovviamente Proporrò questa cosa Appunto al mio amico Francesco Neri Di resilienze Punto info E spero che si sparga La voce In merito a questa Iniziativa In modo tale Che possa diventare Veramente qualcosa Di Virale Ecco E piano 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 Si partirà con un 1% Si arriverà magari A un 2 O un 3 O un 4 Fino ad arrivare Tendenzialmente Magari a un 80% Che cos'è che intendo Cos'è questo 80% Del nostro bilancio Ognuno di noi Ha un bilancio Familiare O aziendale Oggi è al 100% In euro Bene Quando partiremo Con questa iniziativa Magari potrà essere Al 2% Al 3% Al 5% In questo In questo modo Di fare credito In questo modo Di scambiarsi I beni Bene Se saremo bravi Se il numero di partecipanti Crescerà In modo adeguato Potremo arrivare Magari a coprire Il 10 Il 20 Il 50 O anche L'80% Ecco Del nostro bilancio E voi provate a immaginare Se si riesce a creare Una cosa del genere Dove Scambiandoci le cose Fra privati Non si pagano tasse Non si paga IVA Non si fanno ingrassare Le banche Che sono già abbastanza grasse E si fa quindi Si sviluppa veramente Qualcosa di veramente Eco e solidale Bene Io credo Che il tenore di vita Di tutti noi Migliorerà Tantissimo Ci credo Veramente tanto E chiedo A tutti voi Di aiutarmi A sviluppare A sviluppare Questo sogno Va bene Io Chiuderei qua Questo mi scappa La diretta Oggi Breve Anche perché Mi devo ancora preparare Devo fare tutta una serie Di operazioni Prima poi Di fare l'intervista Che vi ho detto prima Quella delle 14 e 30 Con Pier Venturato E Mara Besacchi Ecco questa qui 14 e 30 Quindi più tardi Fra meno di due ore e mezzo Qui su Salvo 5.0 Va bene Carissimi amici Io allora a questo punto Veramente Vi ringrazio Mi auguro Mi auguro di trovarvi In tanti Nella diretta Delle 14 e 30 Per l'intervista Con Pier e Mara E poi Ci vedremo Con il mi scappa La diretta Di domani Con la rubrica Sbanchiamo Di Rossella Fidanza Di domani Alla conquista Di se stessi Di giovedì Il valore della moneta Di venerdì E naturalmente I vari mi scappa La diretta Le varie iniziative Eccetera A proposito A proposito Vi ricordo anche Che domenica Domenica 11 ottobre Alle 15 e 30 Salvo 5.0 Andrà In esterni Andrà esattamente A Biella Per un Interessantissimo Convegno Con la presenza Del professor Nino Galloni E si parlerà Appunto Di monete comunali Ok Quindi è veramente Un tema Molto molto interessante Vorrei ringraziare Pubblicamente Mia sorella Anna Bullano Per avermi invitato A questa manifestazione E io con molto piacere Con gioia Andrò a Biella Per fare appunto La diretta streaming Di quest'evento Vi ricordo Domenica 11 ottobre Ore 15 e 30 Fra poco Spero entro oggi Metterò Appunto Nella pagina Prossimi appuntamenti Anche Appunto L'appuntamento Di domenica 11 15 e 30 Da Biella Con Nino Galloni Bene Direi che a questo punto È veramente tutto Un abbraccio A tutti voi Buon pranzo Buona giornata E mi raccomando Se vi fa piacere Alle 14 e 30 Venite in tanti A seguire L'intervista Con Pier Venturato E Mara Besacchi Un abbraccio a tutti A più tardi Ciao Grazie a tutti